Paola Barale e i tatuaggi, una passione che si rinnova. La showgirl, splendida cinquantenne, ama sempre di più decorare la propria pelle. E sui social la Barale ha postato alcuni video, durante un ritocco fatto a un tatuaggio sulla schiena, mostrando anche i consigli dell'amico tatuatore su come tenere idratato con la crema l'ultimo disegno, tramite la cosiddetta tecnica dell'orso. Ci si tatua per vanità o per raccontare una storia. Io lo faccio semplicemente perché i tatuaggi mi piacciono, ha raccontato una volta Paola. Una passione comunque antica la sua, lei stessa ha confessato di aver fatto il primo, una farfalla sulla caviglia, di nascosto dal padre. Per la Barale ogni tatuaggio ha un ricordo ben preciso e nessuno merita di essere cancellato, anche se col tempo si può decidere di modificarli o ritoccarli.